A passo lento per le vie del quartiere con il cellulare in mano puntato verso le case della Paleotta a Fano, sta facendo preoccupare gli abitanti della zona, l'uomo che domenica in pieno giorno è passato davanti alle abitazioni, secondo alcuni, con fare sospetto. Qualche residente che lo ha notato ha deciso di filmarlo e di raccontarci l'accaduto. Marco, a che ora è successo e che cosa avete visto? Era verso le 3, 3 e mezzo di pomeriggio, abbiamo visto una persona che, secondo noi, aveva un comportamento un po' strano, stava riprendendo praticamente le facciate delle case e gli ingressi, poi come si vedono delle immagini. Poi se voleva riprendere la natura, gli olivi e la fioritura non lo so, però volevamo avviare la cittadinanza che ha fatto tutta via Fattori, via Morandi, via della Paleotta, via Boccioni, via Severini, poi si è reso conto che lo stavamo seguendo e guardavamo quello che faceva ed è sparito e ci è scomparso dalla vista. Avete notato però degli atteggiamenti un po' strani. A partire dalla pista Zengarini, lui è arrivato da qua? Sì, è arrivato nella pista, non faceva la pista, diciamo, in senso come va fatta dai cardelli, ma la faceva contro mano e riprendeva praticamente il retro degli edifici che vanno verso, diciamo, l'Arzilla. Poi a un certo punto si vede anche che quando arriva una signora che portava a passeggio il cane, lui questo cellulare lo ha nascosto. Esatto, basta guardare i video, poi ognuno si farà una... Noi vogliamo avvisare chi abita in questo quartiere, magari era una persona strana che ha fatto delle riprese alle abitazioni, però noi vogliamo avvisare la cittadinanza, una persona che parlava in lingua straniera, che ha praticamente filmato gli ingressi civici. Ed eccolo lì alle loro spalle, proprio mentre realizzavamo l'intervista, quell'uomo è passato di nuovo. È questo qui. Stesso orario, stesso abbigliamento e telefoni in mano, il tour anche oggi lo ha iniziato da via Ferretti e sembra che fosse collegato con qualcuno a cui raccontava ciò che vedeva. Vedi cosa fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto che non abbia detto le stupide altre, hai visto? Lui, lui, è tutto uguale a me. Proprio lui, ecco, guarda. Tu hai visto? Guarda. Vedi? Dato che si va nella primavera, il Covid speriamo che diminuisca e che uno magari esce di casa e non si trova la casa con la sorpresa. Comunque avete allertato le forze dell'ordine? Noi ieri le abbiamo chiamate, poi le ha chiamate qui il mio vicino di casa, abbiamo chiamato i carabinieri, però non è arrivato nessuno. Adesso abbiamo mandato i filmati anche ai vigili. Torno a ripetere, è un comportamento strano, poi magari non c'è niente di preoccupante, però avete visto anche voi in diretta quello che è successo, se avete le immagini che parlano, poi ognuno può pensare quello che vuole, torno a ripetere, però insomma un po' di preoccupazione c'è.